Ciao ragazzi, qui è Suor Subrette. Mamma mia quest'ansia da performance, ma io voglio sapere il mio scopo, io voglio rivolgermi al guru perché me lo dica lui qual è il motivo per cui sono al mondo. Quando è così semplice basta guardarsi intorno. La natura è lo specchio della vita, è il modo in cui la vita stessa si manifesta. Tu vedi un ciliegio e non può che fare le ciliegie, vedi un gatto e non può che fare il gatto. Quante volte mi è capitato di parlare di questo argomento perché in questo modo si calmano gli animi, le persone tirano un sospiro di sollievo, la smettono una volta tanto di star lì a dannarsi per trovare un benedetto scopo. Alla fine la cosa importante è essere autentici, essere chi si è, scoprire chi si è e come si fa a scoprire chi si è davvero? È semplice, velo dopo velo come una cipolla, si scarta tutto quello che non ci appartiene, tutto quello che ci fa stare stretti, scomodi, che non ci dà gioia, che non ci fa essere felici, che non ci aiuta ad esprimerci nella nostra pienezza. Buttiamo via tutto quello che noi non siamo e che cosa rimane? La nostra essenza. Il perché siamo qui e il modo in cui si manifesta ne saranno una logica naturale conseguenza. Non serve il guru, guardati, sorriditi, sei chi sei!